Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, scuola elementare di scrittura emiliana, il podcast di Paolo Nord. È appena uscita la traduzione italiana di un libro di Patrick Ouzednik che si intitola Istante propizio 1855 ed è il secondo libro di Ouzednik che viene tradotto in italiano dopo Europeana e sempre per la Casa Elettrice, due punti di Palermo. Questo Istante propizio 1855 è un romanzo molto singolare per come viene trattata la materia che è in realtà una materia tipicamente romanzesca perché la vicenda raccontata è quella di un gruppo di anarchici italiani che appunto nel 1855 va in Sud America per fondare una specie di comune anarchica, una colonia anarchica. E volevo leggere una parte della seconda parte, qualche pagina della seconda parte che è una specie di diario di viaggio. Il pezzo che vorrei leggere fa così. 9 febbraio. I tereschi sono più poveri di noi altri italiani e per la maggior parte non possiedono quasi nulla. Tra noi abbiamo paura che rubino degli utensili indispensabili. Zeffirino ha proposto di montare la guardia durante la notte. Decio non era d'accordo. Ha detto andiamo verso un mondo nuovo dove tutto sarà comune, proprietà e donne. Zeffirino ha detto che affinché la proprietà sia comune bisognerà pure che vi sia qualcosa da condividere, che se ci lasciassimo derubare da quattro briganti da condividere non ci resterebbe altro che merda. E ha detto per quanto riguarda le donne sapranno badare loro a se stesse. Catina ha detto che non andrebbe mai a letto con un tedesco, anche se dovesse implorarla in ginocchio. Umberto ha detto che andrebbe volentieri a letto con una tedesca e Catina ha detto che è proprio degno di lui. Zeffirino ha proposto che monti la guardia solo chi è d'accordo con lui e che farà il primo turno. 15 persone hanno dato la loro disponibilità. Ma Decio ha detto che bisogna decidere a maggioranza e che non avevamo lasciato il mondo vecchio per ripetere gli stessi errori e sottometterci agli usurpatori. Zeffirino ha detto che è partito alla conquista della libertà e che non si lascerà comandare. Vito Ferroni ha detto che Decio ha ragione, che le decisioni che riguardano tutti devono essere prese a maggioranza, che è scritto perfino negli statuti della colonia. Zeffirino ha detto non siamo ancora nella colonia e quando ci saremo i tedeschi saranno con noi, ma nell'attesa bisogna sorvegliare la nostra roba. Giacomo ha proposto di scendere nella stiva a controllare se mancava qualcosa e se sì di montare la guardia e se no di aver fiducia dei tedeschi. La sua idea è stata approvata con una maggioranza di 37 voti. Giacomo e Zeffirino sono andati dal primo ufficiale per farsi prestare le chiavi del deposito dei bagagli, ma quello ha detto che non se ne parlava neanche perché avrebbero potuto rubare qualcosa.